Quale concime scegliere per il prato a settembre? Non concimare il prato a fine estate è un grave errore. Sia che il prato stia soffrendo o che stia in buona salute, appena le temperature scenderanno riprenderà l'attività vegetativa e se il prato non troverà nutrimenti andrà automaticamente in sofferenza. A fine estate va scelto un concime con molto azoto. Quando le temperature tornano miti ed il prato inizia di nuovo a crescere, l'azoto è il cibo più importante e deve essere presente nel concime in quantità adeguata di almeno 20 o 25 unità, in maggior parte a lento rilascio. Solo i concimi di alta qualità riescono a distribuire i nutrimenti lentamente e costantemente per due mesi. Questo è il motivo per cui consiglio prodotti solo di aziende serie, che servono al mercato professionale dei giardinieri, dei manutentori del verde, dei produttori di prato pronto. Un'altra cosa a cui devi fare attenzione è di attendere che le temperature calino. Distribuire un concime con molto azoto quando fa ancora caldo potrebbe bruciare il prato. Se il prato a fine estate è sofferente, ti consiglio di abbinare al concime anche un prodotto biostimolante a base di acidi umici. Questi prodotti favoriscono l'assorbimento degli elementi nutritivi e stimolano e sostengono la ripresa vegetativa. Sono prodotti che vanno diluiti in acqua e dati con una semplice pompa a spruzzo. Se decidi di fare entrambi i trattamenti, e io te lo consiglio anche se il prato è sano, esegui per prima l'applicazione di biostimolazione e dopo circa una settimana la classica concimazione. Ricapitolando, 1. Non ti dimenticare di concimare il prato a fine estate. 2. Usa un concime a lento rilascio con 20 o 25 unità di azoto. 3. E esegui una biostimolazione con acidi umici. Nella descrizione di questo video ho inserito alcuni links di approfondimento alla tecnica e dai prodotti da utilizzare nella concimazione di fine estate. Ti ricordo che questi ed altri argomenti di giardinaggio pratico li puoi trovare anche nel nostro blog all'indirizzo www.bestprato.com.